Quanto vale un vasetto etrusco come questo? Lo vuoi sapere? Te lo dico subito. Siamo qua, iniziamo subito dallo scribanello. Il pittore di queste due bellissime vedute di Napoli è Salvatore Maresca, nessuno di voi ha indovinato. Mi dispiace, ci avete provato, avete detto tanti tanti nomi, ci siete andati vicino. Salvatore Maresca, a mio avviso, non l'avete indovinato perché è un pittore più famoso per i ritratti piuttosto che per le vedute. Comunque queste due vedute le ha firmate, la firma è in basso a sinistra e in basso a destra sull'altro. E il palazzo è Villa Donna Anna, visto da due prospettive diverse, come hanno detto quasi tutte le persone che hanno partecipato a questo altro indovinello. Quindi questo era lo scribanello, vi ricordo che le due vedute sono in vendita a 475 euro la coppia, firmate, belle, antiche. Vi consiglio, questo è veramente un piccolo, è un acquisto che vi consiglio di fare. Allora, veniamo al prossimo scribanello. Avete probabilmente già visto il momento in cui lo acquistate, è venuto un signore, ce l'ha proposta giorni fa, abbiamo fatto una lunga trattativa, ci siamo accordati su un prezzo di 1500 euro. Questo è quanto ho pagato questa bellissima statua raffigurante una mano. Lo scribanello lo conoscete, mi dovete dire il nome e il cognome dello scultore, un grande, grande scultore del 900 italiano. Chi vince, vince 30 euro da spendere sul negozio ebay. Ricordo a chi mi guarda da TikTok che si può partecipare solo tramite YouTube, scrivendo nei commenti il nome e il cognome dello scultore. Lo potete indovinare, è un grande scultore. Allora, veniamo poi al vasetto etrusco. Innanzitutto, questo non è etrusco, è una replica, una delle tantissime, l'abbiamo scritto qua sotto, fatta nel Viterbese, nell'Alto Lazio, a metà del XX secolo. Ma tanti di voi nelle case hanno questi piccoli vasetti etruschi e sono veri, acquisiti in vario modo più o meno legale, magari da un nonno, ve li ritrovate in cantina, ci chiamate e non sapete cosa farci. Allora, vi devo dire che io visito circa 5 case ogni giorno e almeno in una delle 5 case che visito ogni giorno ci sono dei vasi etruschi. Quanto valgono, secondo un luogo comune che gira, valgono milioni di euro, centinaia di migliaia di euro? No, in realtà valgono pochissimo. Se questo fosse antico potrebbe valere 3, 4, 500 euro al massimo e solo con i documenti in regola. Perché se non avete una documentazione che comprovi una acquisizione legale, non li potete vendere perché è un reato. Teoricamente non li potreste neanche detenere. Quello che bisogna fare, che consiglio a tutti di fare, tutte le persone che hanno questi, se li ritrovano ereditati, se li trovano in cantina o in fondo a una vecchia vetrina e neanche sanno che cosa sono, fare delle belle foto fatte molto 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 bene. Contattare la soprintendenza di competenza della zona dove è stato fatto il ritrovamento. Parlo di ritrovamento perché ve li ritrovate in casa e magari non siete neanche voi averli acquistati. e chiedete alla soprintendenza, spiegate che li avete ritrovati e che vorreste venderli e se è possibile loro rispondono sempre. Molto spesso rispondono in realtà che non si possono vendere ma vi danno un numero di catalogazione e quantomeno li catalogano. In alcuni casi ho visto che alcune soprintendenze, soprattutto in passato, rispondevano con una formula che permetteva anche al detentore di poterli vendere. Ultimamente so che l'aria è un po' cambiata, però questo è generalmente... Sono in Italia. Solo in Italia, all'estero in realtà non so come funzioni questa cosa. Senz'altro vengono notificati come opere di interesse culturale e non possono andare più all'estero, però nel caso la soprintendenza vi dica ci faccia sapere quando li muove o a chi li vende, se mette la formula a chi li vende, in questo caso ovviamente vuol dire che si possono anche vendere. Generalmente sono cose veramente di modico valore, di scarsissimo interesse, nel 99,99% dei casi. Se sono cose di grande interesse come dei bronzi, dei marmi o roba del genere, teoricamente potrebbero anche sequestrarli. Questo è quanto so, di più non so, insomma se avete questo tipo di problematiche magari informatevi, andate a leggere, vedete, però questo è quello che so io al momento. Poi la signora Manuela Charlotte, avevamo presentato questi coralli, ci chiede, ma i coralli non sono proibiti perché sono specie in via d'estinzione? Allora, la maggioranza dei coralli, innanzitutto i coralli che cosa sono? Sono delle bestioline, dei polpi, che costruiscono, dei celenterati marini molto molto piccoli, che costruiscono uno scheletro attorno ad essi per essere protetti all'interno della barriera corallina o di dove si trovano. Questo scheletro, che in alcuni casi prende la forma, quindi il colore rosso, è per questo che è molto apprezzato, è generalmente usato in gioielleria. I coralli che vengono generalmente usati in gioielleria non sono in via d'estinzione, dico generalmente, e sono di libero commercio. Però state molto attenti perché se invece vi trovate in casa i coralli, quelli marini, che una volta venivano importati e venivano magari messi dentro gli acquari marini, quindi stiamo parlando di veri e propri rami, non di piccoli gioiellini, soprattutto quindi per l'acquariofilia, per l'acquariologia, quelli sono spesso negli elenchi CITES, quindi non sono di libero commercio. Allora in quel caso non si può ammetterli in vendita se non prima si è fatto un certificato CITES presso l'ufficio CITES competente per il territorio. Quindi anche in questo caso penso di avere risolto al quesito della signora Manuela Charlotte, che la ringrazio di seguirmi e di partecipare ai commenti spesso come fa. Dopodiché, allora, a base etrusche ho detto di rivolgersi quindi alla sovrintendenza, al nuovo scribanello, l'ho fatto, che devo dire? Nuovi arrivi, il trittico in bronzo, andiamo a vedere il trittico in bronzo. È arrivato questo bellissimo trittico, da una casa a Monte Compatri, è arrivata tanta altra roba, in 24 ore abbiamo venduto tutto. Questo è rimasto, c'è un piccolissimo difetto perché manca la trombetta. Questa statua ha una trombetta, probabilmente c'era un'altra trombetta pure da questa parte, non c'è più. Ve lo faccio vedere, molto bello, siamo in Francia, fine 8 primi 9, il prezzo è 950 euro, bronzo e marmo. Mi dovete dire, ovviamente non è uno scribanello, è semplicemente un indovinello, che è questo bellissimo uomo barbuto, che ha in mano un compasso. Vi faccio vedere un'altra cosa arrivata in questi giorni. un'altra natura morta, un'altra natura morta di fiori e un altro indovinello. Se è un olio su tela, mi dovete dire, come avete fatto, state attenti a non sbagliarvi, di che epoca è, in che epoca siamo, quando è stata fatta questa bella natura morta di fiori. Con oggi è tutto, è l'ora di pranzo, me ne vado a casa a mangiare. Ciao a tutti, alla prossima!